Oggi siamo qui per fare vedere l'agricoltura, piantiamo i pomodori, l'insalata, l'annaffiamo con gli amici, trasmettiamo il lavoro anche a altri, impariamo a fare certi lavori, che il lavoro e l'agricoltura non tutti l'ha fatto, ce n'è parecchi che non sa neanche come si prende una zappa. L'alimentazione sana data dalla dieta mediterranea, l'attività fisica che continua e il vivere in una regione rurale, sono questi i segreti della lunga vita dei marchigiani. Lavorare in campagna dà ossigeno, dà vita, dà movimento alla persona, aiuta l'anziano e lo aiuta parecchio, perché è sempre un continuo lavoro, non è che non riposo, però è un lavoro leggero, non è che è un lavoro molto pesante, che ognuno può fare quello che desidera in campagna. Per un anziano è un dono di natura che lo riesce a rivivere, piano piano, pianta una pianta di pomodoro, pianta il basilico, pianta quello, io mi diverto a fare tutto, tutti i semetti, metto giù uno per uno, mi diverto con tutte le coccette, dalle coccette dove andano grandi cocce. Lavoro, sempre con le nostre piantine che ci producono buoni frutti e non è velenati, più che parte, e frutti sani, io almeno non gli do nessun prodotto, perché non mi piace trattare lei, quello che mi dà il terreno prendo. Pane, pasta, frutta, verdura, carne, oli extravergine d'oliva e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola, in pasti regolari. Tutto questo ha consentito agli italiani di conquistare il primato europeo nella speranza di vita. Si tratta di un modello alimentare apprezzato in tutto il mondo, ma c'è di più. La vita a contatto con la natura consente di vivere all'aria aperta e di fare attività fisica. I cittadini marchigiani sono tra i cittadini più longevi d'Italia. La nostra regione è al terzo posto in classifica con un'età media che si aggira intorno agli 84 anni e questo è sicuramente un dato che racconta l'importanza di uno stile di vita corretto ed equilibrato che permette alle persone di vivere un'età adulta in assoluta serenità e in assoluto benessere fisico. E questo dipende molto dalla dieta alimentare che la persona segue nel corso della sua vita, ma dipende molto anche dalla salubrità delle risorse naturali, dell'aria, dell'acqua, dei paesaggi che è costantemente portato a vivere nella propria quotidianità. E così si moltiplicano i progetti di longevità attiva che vedono protagoniste le aziende agricole multifunzionali, imprese che erogano servizi alla persona e aiutano i comuni ad assistere cittadini e famiglie. Le aziende agricole con le varie attività sociali che svolgono all'interno delle proprie strutture aziendali spesso si rivolgono anche alla categoria di cittadini più grandi, quindi si rivolgono spesso agli anziani dei nostri territori e dei nostri comuni con progetti di attività anche in questo caso ludico, formativa, ricreativa che permette ai più anziani e alle persone più longeve dei nostri territori di continuare a vivere a contatto con la natura, di continuare a sentirsi parte attiva di un processo produttivo, in questo caso come quello delle aziende agricole e permette loro di continuare a mantenere un'attività fisica ma soprattutto un'attività mentale che li aiuta a vivere con serenità la propria vecchiaia. Da questo punto di vista abbiamo sviluppato diversi progetti in questi anni anche con l'Istituto IRCA di Ancona che riguarda appunto l'importanza della longevità attiva, ovvero l'importanza di mantenere queste persone vive all'interno dell'attività sociale dei nostri territori, dei nostri comuni e questo possono farlo all'interno delle nostre aziende agricole. Io lo consiglio alle persone pure perché ci passo molto tempo io là e mia moglie mi sgaccia sempre e non veniva mai a casa.